Ha parlato questa mattina il tecnico del Pescara Emanuel Cascione in vista del match di lunedì, inizio ore 20.45, stadio Adriatico contro la Virtus Sentella. Aloy sta molto meglio, nel pomeriggio tornerà in gruppo, ma non è certa la sua presenza dal primo minuto. Ho tante alternative valide, tutti si sono allenati molto bene, ha detto Cascione in conferenza, che forse per la prima volta ha speso parole veramente belle nei confronti di Tuniov e chi scalpite, potrebbe scendere in campo dall'inizio, anche Edoardo Vergani. Ma con le immagini di Diego Martelli andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Emanuel Cascione. Allora, Aloy ha fatto una visita, giorni scorsi, oggi dovrebbe entrare col gruppo, e vedremo, valuteremo un po' in questi giorni come sta effettivamente. Comunque sia, ci sono anche altri ragazzi nella stessa posizione, che si sono allenati molto bene, quindi ci potrebbe essere anche la possibilità di cambiare qualcosina. Questa partita dovremmo cercare di essere sempre comunque compatti, attenti, perché giochiamo con una squadra che allo stesso tempo si difende molto bene, ha subito pochi gol in questo campionato, e quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa in più sotto il piano, sotto l'aspetto offensivo. Pellacani in questo momento si allena a parte, ancora qualche fastidio al ginocchio, quindi per questa partita non sarà a disposizione. E come procede il recupero di Edoardo Vergani? Dal punto di vista del minutaggio, quanto potrebbe garantire Edoardo? Edoardo già la scorsa settimana ha cominciato a dare delle ottime risposte, questa settimana, è cresciuto molto a livello fisico, lo vedo molto molto motivato, è un giocatore che a me piace molto perché ha delle caratteristiche importanti in quel ruolo. Quindi è un altro giocatore che tengo in grande considerazione. Sono contento allo stesso tempo di quello che sta facendo Gigi, perché è comunque un ragazzo che riesce a trascinare i compagni con il suo carattere, e la sua voglia comunque di vincere, perché si vede un ragazzo che non si accontenta, si sbatte e cerca sempre anche in fase difensiva di dare una mano ai compagni. A livello offensivo ha delle grandissime doti, specialmente atletiche, nel cercare la profondità, che è quello che magari chiedo maggiormente a un attaccante. Quindi sono contento di quello che stia facendo, al di là se poi segna o non segna. L'importante è che sia utile per un discorso globale, per la squadra. Io torno sulle possibili scelte, perché a Vergani le volevo chiedere se è un'idea un po' troppo rischiosa oggi provare a giocare dall'inizio, o ci deve arrivare con un percorso più graduale. E poi le chiedo una cosa sul centrocampo. È normale che Edoardo ha bisogno di minutaggio, ha bisogno di giocare, ha bisogno di prendere il ritmo gara, ritrovare le distanze, quindi ci può essere anche la possibilità di farlo giocare. Adesso voglio vedere ancora qualche cosa, un pochino questi ultimi giorni. Come ho detto, i ragazzi stanno molto bene, sia a livello fisico che a livello mentale, quindi vediamo come finiamo questa settimana, questo fine settimana, e poi lunedì prenderò delle decisioni, ma sono molto fiducioso per chiunque giochi, penso che non abbia problemi sotto l'aspetto caratteriale per affrontare questo tipo di partita. Sul centrocampo, Meazzi, un trequartista che può fare la mezzala offensiva, può fare anche l'esterno alto, in caso dovesse decidere di farlo giocare a centrocampo, che tipo di caratteristiche può dare, in base alla partita che sta pensando di fare lunedì? È normale che Lorenzo ha delle caratteristiche più offensive rispetto a una classica mezzala, come magari può essere Aloio oppure D'Agasso o De Marco. Un giocatore che comunque è bravo anche a giocare tra le linee, si sa alzare, si sa muovere molto bene dietro al centrocampo avversario, può ricoprire più ruoli, infatti poi comunque durante la settimana l'ho provato spesso come mezzala, poi alla fine con il Ponte d'Era e quando è entrato è entrato come punto esterno, ha fatto molto bene. Un giocatore molto intelligente e tecnicamente può giocare in più zone del campo. Come ho detto, c'è Lorenzo, c'è anche Giorgi che si sta allenando molto molto bene, lo vedo concentrato, ha cambiato un po' la mentalità. La mia decisione col Ponte d'Era è poi comunque di non convocarlo e vedo che comunque l'ha trasformata in rabbia, tra virgolette. Non si è abbattuto, ha cercato di dare qualcosa in più e in queste settimane l'ha fatto vedere. Sappiamo benissimo che Tujok è un giocatore che in questa categoria è un po' un lusso, è un giocatore a un altro passo rispetto agli altri giocatori di Lega Pro, però deve lavorare molto mentalmente, deve capire che comunque bisogna giocare per la squadra, non per se stessi e specialmente in questa settimana l'ha fatto vedere e quindi è un altro giocatore che posso tenere in grande considerazione. Per lunedì? Per lunedì, sì, sì. Ho sempre qualche dubbio e lui è uno di quelli che comunque potrebbe partire dall'inizio.